What day a tutti ciurma qui da Giochelina per questo incredibile nuovissimo video che ci tengo a fare una grossa premessa non è un video ASMR quindi state tranquilli non è che sto iniziando a fare video ASMR è che purtroppo ragazzi non ho più voce quindi preferisco parlare a bassissima voce così almeno magari più o meno si capisce quello che dico perché se parlo col tono di voce normale parlo così ovviamente ragazzi spero che questo video non sia di disturbo alle orecchie di nessuno però non ho alcun altro modo per avvisarvi del fatto che purtroppo mannaggia la pupazza sono rimasta senza voce e non so perché il perché forse si può facilmente spiegare evidentemente in questi giorni avrò preso freddo o comunque il vento sapete qualche colpo d'aria ragazzi che mi ha fregato assolutamente la gola infatti di solito con la gola ci vado un po' soggetta a ste cose quindi sono stata stupida io che magari non mi sono coperta per bene ragazzi però qui a Valencia ieri per esempio c'erano 23 gradi e siamo a dicembre quindi magari si copre pensando che fuori faccia freddo esce e fa caldo suda prende colpi d'aria e si frega altamente quindi evviva le alte temperature a dicembre che non ti fanno assolutamente capire come diavolo vestirti la sfiga ragazzi non smette mai di perseguitarmi perché sono rientrata a mercoledì scorso e ovviamente appena rientrata ragazzi avevo altre cose da sbrigare e quindi non mi sono potuta mettere a registrare gameplay e vi avevo detto che appunto avrei ricominciato questa settimana due giorni fa ho pubblicato l'intervista doppia con mia mamma ieri ho pubblicato il primo video spacchettamento ragazzi di quello che mi avete mandato mentre ero in Italia e effettivamente oggi avevo previsto di ricominciare a registrare gameplay però vi renderete conto del fatto ragazzi che purtroppo per registrare video ho bisogno della voce e che quindi se non ho voce non posso e non posso nemmeno ovviamente stare lì a sforzarla ragazzi perché più la sforzo più tempo magari ci mette a ritornare normale per cui ci tenevo appunto ad avvisarvi ragazzi che la sfiga mi perseguita e fino a quando la mia voce non si rimetterà almeno in parte non potrò registrare gameplay per cui domani che sarà giovedì pubblicherò il secondo video spacchettamento delle cose che mi avete mandato in Italia perché avevo registrato due video però dopodiché ragazzi non vi posso promettere che per esempio venerdì o sabato registri un gameplay perché non so quanti giorni ci metterà la voce a tornarmi spero ovviamente il prima possibile e quindi caso ragazzi tutto andando male non dovessi riuscire nemmeno venerdì perché magari la voce non mi è tornata ancora del tutto purtroppo dovremmo rimandare il ritorno dei gameplay alla settimana prossima e credetemi ragazzi se vi dico che la cosa mi dà tanto tanto fastidio però purtroppo fisicamente ragazzi non ci posso fare nulla mi dispiace nell'anima che si sia presentato anche questo inconveniente spero vi renderete conto del fatto che uno non sa non si può immaginare quando magari si ammala o cose del genere per cui aspetterò pazientemente che mi torni questa benedetta voce e volevo avvisarvi ragazzi anche del fatto che è quasi certo al 100% che non continuerò la serie su Spider-Man immaginerete in parte comunque il motivo la questione della lingua ragazzi ha penalizzato la serie secondo me tantissimo e quindi per questo motivo anche la serie è davvero troppo poco seguita per cui voglio comunque provare ragazzi a portare sul canale qualcosa che possa piacere un pochettino a tutti quindi se doveste avere dei giochi da consigliarmi vi consiglio di farlo qua sotto in commento specialmente ragazzi se sono giochi tipo emozionanti con una bella trama e commuventi perché no vi invito ovviamente a scrivermi tutto qua sotto spero che siate riusciti a capire tutto quello che ho detto ci aggiorniamo comunque sui social per cui vi invito ragazzi a seguirmi su tutti i miei social li trovate tutti quanti qua sotto in descrizione e niente mandatemi tutta la vostra energia positiva per far sì che la voce mi torni presto questo video termina qui grazie a tutti bacione e uptosh a tutti ragazzi ciao